Buon pomeriggio e buon viaggio da Firenze Smart Mauro Ciutini, code a tratti sulla Firenze Pisa Livorno tra Ginestra Fiorentina e Firenze Scandici in direzione di Firenze. Sempre sulla strada di grande comunicazione personale per lavori tra l'interporto Toscano Ovest e il Bivio SGC Fipili A12 Genova Livorno in direzione di Livorno. Sulla 1 un veicolo è fermo tra Valdichiana e chiusi in direzione Roma. Ricordo che a seguito degli eventi meteo la regionale 429 Vecchia è chiusa nel comune di Castelfiorentino zona industriale Malacoda percorsi alternativi per i mezzi leggeri interdetta invece la circolazione al traffico dei mezzi pesanti. Per i treni a seguito della segnalazione di alert per movimenti franosi la circolazione oggi domenica 20 ottobre è sospesa sulla linea faentina nella tratta tra Marradi e Faenza. Ancora condizioni meteo critiche la circolazione è sospesa sulla linea Bologna-Pistoia tra Casalecchio Garibaldi e Sasso Marconi. È tutto per il momento muoversi in Toscana in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.